Non pensavo che potesse suicidarsi. È disperato il padre di Rosita Raffoni, la giovane che nel giugno del 2014 si è suicidata gettandosi dal tetto del liceo classico di Forlì. L'uomo è stato ascoltato in corte d'assise per sette ore, accanto alla madre della studentessa, anche lei in lacrime durante l'udienza del processo. Il procedimento vede imputati entrambi i genitori, accusati di maltrattamenti e il padre Roberto ha anche distigazione al suicidio. Sono state analizzate le lettere, i messaggi, i video lasciati dalla ragazza alle amiche e alla famiglia, missive in cui la giovane esprime tutta la propria sofferenza per le mancanze, a suo dire, dei genitori nei suoi confronti. Sfigati, così vengono definiti dalla figlia, per un viaggio in Cina che le viene negato, per il fatto di sentirsi non desiderata dalla coppia. Il padre parla di incomprensioni, di una ragazzina perfetta che col tempo è cambiata. Poteva comprarsi ciò che desiderava, non le impedivamo nulla, ribadito il padre. Altro punto dell'udienza è il telefonino sottratto al padre della giovane, di cui i genitori avevano denunciato la sparizione ai carabinieri, un fatto che è diventato oggetto di discussione con lei. Il PM Saraposa ha poi insistito sull'inquietante minaccia di Rosita di gettarsi dal tetto del liceo, qualche giorno prima di compiere per davvero il tragico gesto, chiedendo al genitore se l'affermazione non l'avesse turbato. Era una battuta, ci disse che stava scherzando, ha risposto lui.